Buonasera a tutti, non mi aspettavo di dover dire due parole anche perché non è un evento politico, è un evento cittadino, dico soltanto come è nata l'iniziativa da parte mia e dei colleghi che l'hanno sottoscritta e votata in Consiglio Comunale. Ho appreso attraverso Roberto Heroli e i suoi amici che curano comunque sia, che fanno parte di questa associazione, l'idea di fare questo libro e quindi è nata l'idea di presentare questa mozione al Consiglio Comunale. Non era una mozione politica, era una mozione per andare oltre la politica trasversale, quindi per coinvolgere tutte le forze politiche affinché si mettesse da parte un attimo quell'ondata o di populismo o di guerra politica che poi ripercuote malamente sul territorio. E quindi presentare questa mozione, il primo che mi diede subito appoggio era il collega che all'epoca era con me in maggioranza, Gerardi, con il suo gruppo Viva Frascati. E quindi spinto anche da loro presentare questa mozione e nella mozione noi presentavamo l'opportunità di creare questo evento dove ne facessero parte due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, proprio perché comunque sia per rappresentare a 360 gradi l'elettorato cittadino. Questa mozione venne approvata solo ed esclusivamente da me, da Roberto Gerardi e dai colleghi con i quali oggi compongo l'opposizione. E anche se fu bocciata, comunque sia noi decidemmo lo stesso di aderire a questo comitato per andare avanti perché comunque sia sentiamo fortemente la necessità di essere vicini ai cittadini, di non stare più dall'altra parte e presentarci soltanto al momento dell'elezione a chiedere il voto, ma essere parte integrante dei cittadini perché come prima cosa noi rappresentiamo un elettorato e siamo la voce del popolo in Consiglio Comunale. Qualsiasi decisione dobbiamo prendere, qualsiasi mozione, qualsiasi progetto che deve andare avanti deve essere solo ed esclusivamente a beneficio della collettività. Ringrazio oggi gli organizzatori di questo evento, ringrazio ancora una volta i consiglieri che sono venuti qui insieme a me e quelli che non sono presenti per problemi o professionali o di famiglia. Ringrazio tutti quanti voi e tutti coloro che faranno parte di questo comitato. Grazie.